Sindaco, un inizio scoppiettante quello di ieri? Un inizio veramente scoppiettante, come hai detto tu, siamo estremamente soddisfatti ed orgogliosi dalla grande risposta di pubblico sia per la presentazione di Andrea De Logu delle 19 che per quella di Veronica Pivetti delle 21 e 15. Un inizio che ci conforta e che ci rafforza tantissimo anche nel pensare insieme all'organizzazione di Passaggi Festival che anche il prossimo anno San Costanzo ospiterà Extra Passaggi Festival e siamo veramente tanto emozionati perché sai, organizzare un evento di questo tipo con quattro nomi di quattro grandissime donne, grandissime autrici che vengono in un comune delle nostre dimensioni crea un po' di aspettative insomma e tutto però è andato bene, tutto perfetto e quindi sono particolarmente grato all'organizzazione di Passaggi Festival ma anche alla protezione civile di San Costanzo, al comando della Polizia Municipale perché tutto ha funzionato benissimo.